Abbiamo iniziato questa distribuzione delle mascherine alla popolazione, abbiamo trovato appunto questa grande collaborazione da parte di Postitaliana nel poter recapitare tutte le mascherine a casa, quindi questo per i comuni più grandi, quindi quelli sopra i 2.000 abitanti. Nei comuni inferiori ai 2.000 abitanti invece porteremo le mascherine a casa tramite il supporto dei sindaci e del volontariato. Ora nei prossimi giorni quindi ci sarà appunto questa distribuzione capillare attraverso il servizio appunto fornito dalle poste e contiamo di arrivare a distribuire il milione di mascherine diciamo entro la prossima settimana. Abbiamo iniziato da oggi la consegna e distribuzione delle mascherine che ci sono state fornite dal comune di Genova e dalla protezione civile e ci è stato fornito anche un tabulato insomma con tutti i nominativi e le varie consegne da fare, quindi divisi per civici e interni. Sappiamo che in particolare ad un interno dovremo consegnare una confezione piuttosto che due o tre e quindi proseguiamo così per tutta la zona territoriale che andiamo a coprire. Riusciamo a portare circa 200 confezioni per portalettere. Qualcuna Grazie a tutti. Salve, sono la postina. Mi potrebbe aprire il portone? Grazie. Mi potrebbe aprire il portone? Grazie. 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 Grazie.